Sono le 7.30 del mattino, siamo nelle scuole Mediatorelli di Sondrio e vedete alle mie spalle gli studenti che manifestano per la pace, una manifestazione che si ripete da diversi giorni ma sentiamo subito i protagonisti di questa iniziativa. Da quando è iniziata la guerra in Ucraina, noi ragazzi della scuola Mediatorelli ci siamo organizzati per fare questa manifestazione tutti i giorni, prima del suono della campanella qui davanti alla scuola e non perdiamo ore di lezione, infatti quando suona poi la campanella entriamo e partecipiamo alle lezioni normalmente. Questo per tutti quei ragazzi che in questo momento non possono andare a scuola nel loro paese. Noi crediamo che le persone siano preoccupate come noi per il futuro, per come andranno le cose, per questa guerra e speriamo che la pace arrivi in tutto il paese. Questa è un po' di tutto il mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.